E di tre persone ferite e ben dieci auto danneggiate, il bilancio di un rocambolesco incidente avvenuto all'alba di questa mattina nel centro di Bari tra via Quintinosella e via Dante. Intorno alle 5 un autobus dell'AMTAB, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, si è scontrato con una vettura a bordo della quale c'erano tre persone per poi travolgere altre nove auto che erano parcheggiate sul ciglio della strada, oltre a bidoni della raccolta rifiuti e cartelli stradali. La corsa del mezzo di trasporto pubblico è terminata poi contro un palazzo. Ad avere la peggio nell'impatto sono state le tre persone a bordo della prima auto rimaste ferite in maniera non grave e che hanno ricevuto una prognosi tra i 5 e i 10 giorni. Illeso il conducente del bus e i pochi passeggeri presenti sul mezzo, per loro solo tanto spavento ma nessuna conseguenza importante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari che hanno effettuato i primi rilievi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.